Sono una truffatrice. Allora siamo colleghe. Secondo me hai bisogno di una complice. Fregare gli uomini e la loro specialità. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile. Puoi davvero piangere a comando. Ora prova tu. Ma sei stitica. Mettimi alla prova. Mi stai sfidando per caso. Sono io la più brava. La numero uno sono io. Scommettiamo. Bravi, è scappata. Mai buttare un vestito a spazzatura. Attenti a quelle due, al cinema. Grazie a tutti.